C'è un grande ramarico per questa sconfitta, abbiamo giocato contro una grande squadra, è uno stadio importante, per l'ossalmente potevamo vi dicerla, però purtroppo non abbiamo parlo da casa a punti, però testa bassa a lavorare perché siamo sulla strada giusta. Sì, come sempre, lavoriamo al massimo in settimana, sappiamo che dobbiamo fare i più punti possibili per cercare di fare questa impresa e lavoreremo solo per arrivare a domenica carichi. Ma è normale che avendo continuità si sta sempre meglio, in questo campionato ho giocato poco, sicuramente per colpe mie, però voglio dare una mano alla squadra e aiutarli a cercare di fare questa impresa.